La Sirenetta, un vincitore di Sanremo ha dato la voce Sebastian nella versione italiana del live action del cartone Disney. Grande attesa da parte di tutto il pubblico italiano per l'uscita del nuovo film La Sirenetta. La rivisitazione in chiave action del classico cartone arriverà il 24 maggio nelle sale italiane. Distribuito da The Walt Disney Company Italia. Da parte di grandi e piccini c'è grandissima trepidazione anche per una notizia del tutto fresca, un cantante super famoso ha dato voce a Sebastian. Di chi stiamo parlando? Di Mahmoud. Momento d'oro quello che, da qualche anno a questa parte, sta vivendo il pluripremiato artista. Il cantante, dopo i molteplici traguardi raggiunti iniziando da Sanremo giovani, continua a proseguire nel suo cammino artistico, raggiungendo picchi di successi. Di qualche giorno fa è infatti la notizia che vedrà proprio Mahmoud come ospite d'onore della serata finale dell'Eurovision Song Contest 2023. Il 13 maggio infatti il noto cantautore sarà invitato dalla BBC a esibirsi sul palco della Liverpool Arena. Si tratta della primissima volta in cui un cantante italiano viene invitato ad esibirsi fuori concorso sul palco della Kermesse. La stessa che vedrà gareggiare in rappresentanza dell'Italia proprio Marco Mengoni con il suo brano Due Viter è arrangiato per l'occasione. Sempre lo stesso palco che ha ospitato per ben due volte anche lo stesso Mahmoud, la prima volta nel 2019 a Tel Aviv con il suo brano D'esordio Soldi. La seconda, l'anno scorso in compagnia di Blanco a Torino con il successo Brividi. Adesso ad aggiungersi a tutti questi grandi successi ha anche un ruolo del tutto inedito per il giovane Mahmoud che si cimenterà per la primissima volta nel ruolo di doppiatore. È stato proprio il diretto interessato a darmi la comunicazione attraverso i suoi profili social. Ed ecco anche l'account ufficiale Disney.